26 aprile 1986. Sono da poco passate le una di notte quando un'impressionante esplosione devasta il reattore numero 4 della centrale nucleare Lenin a 18 chilometri da Chernobyl. Mezza Europa viene investita da una nube radioattiva i cui effetti sono misurabili ancora oggi. 26 aprile 2016. Bolzano, via Ambalagi, sede del Laboratorio di Chimica Fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. Luca Verdi è il direttore del laboratorio e spiega, proprio a distanza di 30 anni, la situazione della contaminazione radioattiva provocata dal disastro di Chernobyl. I 30 anni di Chernobyl sono in qualche modo un numero magico perché 30 anni è esattamente il tempo di dimezzamento del cesio 137. Si tratta dell'isotopo che è stato prodotto dall'incidente di Chernobyl e che tuttora è presente nei nostri ecosistemi. Questo significa che dopo 30 anni da Chernobyl abbiamo ancora la metà del cesio che è stato prodotto da Chernobyl. Nelle immagini si vede la contaminazione su scala europea, una contaminazione cosiddetta amacchia di leopardo. Anche in Alto Adige la situazione è molto simile e dovuta alle precipitazioni piovose che nei giorni successivi al disastro hanno portato a terra una notevole quantità di materiale radioattivo. Sul tetto dello stabile che ospita il laboratorio di chimica e fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente sono stati posizionati una serie di strumenti capaci di raccogliere e analizzare proprio gli eventuali elementi inquinanti che cadono dal cielo. In seguito all'incidente di Chernobyl sono stati allestiti laboratori per le misure delle radiazioni sul territorio, laboratori che hanno implicato investimento di risorse e anche la creazione di risorse e competenze umane. Queste competenze si utilizzano tuttora sia per la misura della radioattività in generale che anche spesso nel settore dei campi elettromagnetici. Per quanto riguarda la radioattività, una delle matrici sempre da tenere sotto controllo è il cosiddetto fallout e queste sono proprio le vasche che servono per misurare il fallout, cioè la ricaduta secca o umida di particolato contaminato su un metro quadro di terreno. Si tratta di misure che vanno compiute ancora in modo continuativo proprio per poter essere sempre pronti qualora dovesse capitare qualcosa di poco simpatico. Inoltre una ricaduta della competenza sulla radioattività è molto attuale e molto utilizzata a giorno d'oggi e ricade sotto il termine di radon. Il radon è noto a molti fortunatamente è un gas radioattivo naturale che non ha nulla a che fare con Chernobyl se non per il fatto che è radioattivo anch'esso. Si tratta di un gas che va controllato, un gas che in grossa concentrazione può provocare tumore ai polmoni e quindi esistono normative in questo momento e andranno aggiornate entro pochi anni abbassando i limiti proprio con il compito, con l'obiettivo di tutelare la salute della popolazione contro gli effetti del gas radon. Dal tetto ci spostiamo nei locali interrati del laboratorio di chimica e fisica dell'Agenzia Provinciale per l'Ambiente. La tecnologia degli strumenti in grado di misurare la radioattività dei campioni più disparati si sposa con l'esperienza di quei tecnici che da anni osservano gli effetti di Chernobyl anche sul nostro territorio. A 30 anni da Chernobyl la situazione è comunque sempre sotto controllo, ossia c'è il laboratorio che continua a fare misure per verificare il livello di contaminazione di diverse matrici sia ambientali che alimentari. In particolare gli alimenti tipo latte, pasta, verdura, frutta hanno tutti un bassissimo livello di contaminazione, spesso neppure misurabile. Le uniche matrici alimentari che ancora invece mostrano un livello di radioattività misurabile, comunque entro i limiti, sono tipicamente quelle matrici di natura selvatica come per esempio funghi, bacche o carne di selvaggine. Questo perché? Perché l'ecosistema boschivo tipicamente tende ad avere un ciclo chiuso e quindi il cesio che viene diciamo mangiato, ingerito dagli animali poi rientra nel circolo e quindi viene riassorbito di nuovo dalle piante. I livelli sono comunque molto vari fra alimenti di diversa natura, chi tuttora ha la contaminazione più alta sono i funghi. Fortunatamente i boletus, quindi le brise, i finferi e le finferle hanno dei livelli comunque abbastanza bassi. Ancora un grafico per rendere chiara l'entità del disastro di 30 anni fa. Il picco che si nota in corrispondenza del 1986 mostra l'impatto di Cernobyl sulla radioattività presente in atmosfera. Più intenso, circa 10 volte, ma molto più breve, 100 volte, se paragonato agli altri due picchi evidenziati ad inizio del grafico e causati dai test nucleari portati a termine durante la guerra fredda. Chiunque volesse avere informazioni più dettagliate è sufficiente che si rivolga al laboratorio di chimica e fisica dell'app o consulti il sito internet all'indirizzo www.provincia.bz.it slash agenzia-ambiente, dove si hanno a disposizione anche le misure della radioattività in aria in tempo reale.